E' una domenica mattina, una delle tanti, mi trovo a Cava di Tirreni e sto facendo un tour per le strade di Cava, per far vedere a tutti quanta civiltà c'è a Cava. In questa mattinata non ci dovrebbe essere nemmeno l'ombra di spazzatura per terra, perché lo sanno tutti che quando si fa la differenziata il sabato sera non si butta spazzatura, ma purtroppo invece qui non vogliono capire. Tutte le strade di Cava sono piene di sacchetti di spazzatura di qualsiasi genere senza nemmeno degnarsi di fare la differenziata. Complicemente dalle immagini. Grazie. 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 Grazie.